Questo progetto è stato realizzato anche grazie al sito web Hostinger. Finalmente, dopo parecchio tempo, il momento è giunto. Posso parlarvi di un qualcosa che ancora non vi dico che vi ho tenuto all'oscuro per tantissimi. Non voglio dilungarmi troppo, iniziamo. Ehi, ciao a tutti! Oggi finalmente voglio parlarvi di un progetto a cui sto lavorando davvero da parecchio tempo e che finalmente sta prendendo forma, Gateland Studios. Ma di cosa sto parlando esattamente? In poche parole, il nostro spazio creativo dove ci dedichiamo a realizzare video professionali con droni. E ci occupiamo di tutto, dalla realizzazione del video al montaggio alla consegna finale. Abbiamo appena lanciato il nostro sito, Gateland Studios, ve lo lascio qui sotto, dove potete dare velocemente un'occhiata a tutti i nostri lavori e servizi che offriamo. Troverete insomma tutte le informazioni necessarie se deciderete mai di collaborare con noi. È un sito comunque a cui stiamo ancora lavorando, quindi lo aggiorneremo frequentemente per renderlo sempre migliore e ricco di novità. Ma la cosa che mi entusiasma di più in questo momento è che finalmente abbiamo realizzato il nostro primo spot pubblicitario. È stato davvero un lavoro appassionante. E siamo davvero soddisfatti di cosa amo, parlo al plurale, perché in questo progetto lavora anche un mio amico, del nostro prodotto finale. E aspettate la fine del video perché sì, potrò farvelo vedere grazie al consenso del cliente. Come ultima cosa voglio dirvi che se siete interessati trovate il link qui sotto in descrizione, nei commenti e anche nelle info del canale. Quindi non perdiamo altro tempo, vi lascio allo spot definitivo. Guardatele poi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. E se vi va di scoprire di più su quello che facciamo, potete farmi qualsiasi domanda. Mi raccomando, rimanete sintonizzati sia sul sito che qui sul canale YouTube, perché ci saranno un sacco di novità in arrivo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ok, questo era il massimo che potevo farvi vedere per il momento. Se volete saperne di più, link in descrizione. Dall'acquisto del dominio al sito web realizzato è una roba mai vista prima.